bella ragazze e ben ritrovati a un nuovissimo episodio di the witcher tra wild hunter allora tra poco saremo in compagnia della nostra carissima amica tris amica se così si può dire tris merigold però per farlo dobbiamo aspettare fino a mezzanotte questo perché dovevamo andare trovarci qui con lei per andare a indagare su quella che era la vicenda del tesoro e soprattutto per ottenere poi informazione a quelle che ci porteranno a siri ecco qui ma non ti preoccupare noi passiamo per la via principale che si fa sempre anche prima no manette ha 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 un Sì, tris, s'確 questa può arrivare all'inizio è una sorpresa, ma le cose ha molto sospettare aggiungo ai due e prenderà tutti tutti i mixi tris merigoldi e non quindi soltano controller per te , e potrebbero potretti per me non vedi, l'evolione per lo che si vive nell'andoli ha un'attività No, nessuna cosa è troppo riscosa Triss, pensi a questo, voglio farvi andare in la palla di Lion's Den di vostra propria willa e in chiena? Sì No, non lo permette È bello di te preoccuparti, ma ho fatto la mia decisione, e non lo farò È tardi come al solito Vabbè, e poi come si va avanti il piano? Eh, quindi dobbiamo fare tutto noi Cosa per il tesoro? Se abbiamo aprendo qualcosa? Grazie Se non... Pensi che bisognavi di coin di Dijkstra per aiutare gli altri magi Sì, lo faccio Ci sono molte mani per ottenere gold, però È solo non la cosa più importante adesso Aspettate, voglio ringraziare Grazie Vabbè, qualcuno farà questo No, non qualcuno Perchè Perchè E' non riuscita a un sorceressore di blusci Ancora ho un buon sentimento per questo Ma è difficile Perchè, andiamo Geralt, ricordi? Perchè Padre Cosa 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 Ma Cosa 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 Sto chiesto di te anche, ok? Mmm, ok. Tanto si sa già come va a finire, nel caso l'aiuteremo, tanto Siri in un modo o in un altro la ritroviamo E su una cosa ce l'avevo azzeccato lei 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 I aszeccato lei Perfetto Ebbene abbiamo un po' di guardia qui da affrontare se succede un casino e sinceramente io opterei anche per la soluzione casino Perfetto 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 Seguire Perfetto candlr Perfetto ordial In guerra Vinando Dirk Viene Perfetto Baby Viene Perfetto In mówito Taschino Guardate In questo SD Ehm... Sì Non ti preoccuparti Mangre'll give you your coin And Merigold will get what she deserves Oh No torture until I get there, got it? Got it No torture What? Horson's casting spells, get him! Ehm, non molto perfetto Come on, come closer Perfetto un cazzo, direi E va bene, ci arrangiamo diversamente, quindi Io l'ho detto che preferivo Se non altro testiamo un nuovo equipaggiamento completamente Perfetto Allora... Io vorrei spiegare che lei Che non ve lo faccio torturare Oh, 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 oh Le cose non vanno Certo che Per casino sono capaci, eh Ehm... Ehm... Ok... Uno... Due... Vediamo gli attacchi pesanti che funzionano sempre, no? Uuu... Ma lei, ma lei, ma lei Non puoi farlo. Come è andato secondo me? Non puoi farlo. Perfetto. Uiii. Ma sono tantissimi ragazzi. Ho avuto una scelta di merda. Perfetto. Perfetto. Se c'è una cosa che voglio, sono questi. Attenta. E BOOM! Perfetto. Ah, ne manca uno che è fuori. Io direi facciamo così. Siamo anche belli che a posto. Ok, guarda. Era un semplice cacciatore di streghe. Per cui molto velocemente ce lo uscidiamo. Ok, perfetto. Andiamo da Mag. Sì, vabbè, questi qua. Intanto. Allora. Scusi, permesso. Ah, proprio così... Questi veri. Va bene. Ce lo facciamo noi, Triss, ok? Eeeh, finita. Non è che un mini dialogo, niente. Non è che un mini dialogo, niente. Sì, non siamo così espliciti. Perfetto. No, davvero. Lasci fare che tanto ormai abbiamo una certa abilità con le indagini. o quello. Un fiorino. Un nome strano per cui ci può anche essere utile. Allora, la lettera. Magari non c'è attivisione. Magari, no. No, davvero. No, davvero. No, davvero. No, davvero. a me le quali erano altra vecchia per cui non c'è nessuna cosa? solo un'office chiave nel suo sacco qui niente sotto il suo poteco aspettate, qualcosa che si trova nella linea cosa è? la chiave per una poteca qui, lo dico a Dijkstra con i miei ricordi ho trovato una lettera a Menger di qualcuno importante un spio, credo un spio? guardate si, così la brucia però i segnali segreti sì, una forte stanza di spio questo agente potrebbe sapere più di Dandelion lo dico, lo dico la lettera si racconta come segnalare per un incontro ora una menzione di dove avrebbe avuto potrebbe che Dijkstra possa aiutare lo sa tutto 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 un po' exagerazione non c'è non c'è la chiave per una poteca, non c'è non c'è perché credo che questo farà a Dijkstra riuscire beh potrebbe mantenere la poteca a noi per riuscire le nostre poteche per riuscire a riuscire a riuscire lo dico non c'è qualcosa di forte spero non c'è niente per noi qui andiamo bella 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 solo non per la porta principale che fa un portale che fa un portale ah, la faccio io no? figuriamoci che portale dunque qui c'è una porta dire usiamola perfetto questo è l'inizio ma prima ci siamo azzurri questo è azzurri 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 si abbiamo troppo evidenza sì, ma ho bisogno di 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 ascolti c'è un altro cosa che volevo parlare ma non qui e sicuramente non ora arrivi dopo quando hai un momento io l'apprecio ok abbiamo bisogno di fuori qui sono curioso di vedere ma non ti uscio niente no? e va ancora poco va bene facci lei sicuramente ne sa più di me allora qui per uscire mo scusi io vorrei uscire ah perfetto perfetto sti cazzo 380 metri allora io direi che noi ci becchiamo direttamente quando arrivo dal nostro carissimo disc tra qualcosa no? per cui a tra poco ok è successo qualcosa nel mentre tu là mister rovin vuole una parola impasso uomo cosa? niente siamo qui pronto commenti ad alta voce no? qui mi 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 si mi si mi 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 non mi si non si 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 di sforza eh esatto punto primo C'è qualcosa nella mia mano, la chiusura a un vault, l'ho trovato sulla Menga. Un vault? Che ho bisogno di trovare sull'indicazione? Non ci hanno fatto delle cose più semplici per me, dà me questo. C'è tutto ciò che hai detto? Non c'è un risultato? Non c'è un risultato scintillante? Non c'è un risultato scintillante. Chiedi una scintillante? Bene, ti ho racconto. E' di nuovo. C'è un risultato? C'è un risultato che mi ha scontato. Ma non c'è un risultato di comprare quella informazione con me! Non, non c'è un risultato. Ma c'è un risultato di aiutare a te trovare la tua traccia. Quindi, stop a te sbagliare. Non c'è un risultato di non, Geralt. Tu abusi la mia confronto. C'è un risultato di vivere. Posso vivere con questo. C'è un risultato? E ora, è ora per sbagliare le cose. C'è un risultato? Non c'è un risultato. Tu mi aiutai, Witcher. Quindi, a rispondere a tutto ciò, tu hai otto il risultato. Penso che tu ancora non hai idea cosa succeda con Dandelion? Non c'è un risultato. Non c'è un risultato che potrebbe sapere. Un risultato, credo. Si chiede un nome, Yamrlac. Ho trovato una lettera di lui. Solo un problema. Solo dettaglio di come arrangere un meeting con Dandelion. Non c'è un risultato di dove. Una casa bruciata in vicini. Delle i nostri ruoli. Delle il signale e ci vedrà lì il stesso giorno, proprio prima di mezza. Non c'è bisogno di ringraziare. Solo pagare una pagina. Io lo lo so, sai. Anche la mia lacuna. La ultima scusa. Non provi a mi non mi ancora. Sempre. va bene allora Risa Sensei a Witcher per trovare il comparto bla 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 va perfetto però direi che noi questa parte qui la facciamo la prossima volta e per adesso come sempre io vi saluto vi aspetto ancora una volta sul mio canale e ricordatevi un bel like e un commento ciao a tutti e al prossimo video